Ciao Sandra, ti avevo detto nel commento che ti avrei fatto il video domani, te lo faccio adesso, tanto ci vogliono 5 minuti però ti avverto, più semplice di come te lo spiego adesso non lo so fare, quindi magari se ancora non ti è chiaro se mi fai un video di qualsiasi canzone io mi rendo conto subito quali possono essere i tuoi punti deboli e i punti di forza così capiamo il motivo, perché alcune volte diciamo che se non c'è alla base una certa conoscenza non si può sviluppare una certa abilità e quindi se vedo come suoni riesco ad analizzare allora, molto semplicemente, il brano in quattro quarti, gli accordi sono La maggiore, Mi maggiore, Si minore, Do diesis minore, Fa diesis minore quindi fin qui penso che ci siamo facciamo quattro quarti, il tempo è sempre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 noi battiamo, cioè colpiamo le corde dall'alto verso il basso, quattro volte su ogni accordo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 cioè solo nel passaggio Si minore, Do diesis minore facciamo 1, 2, 3, 4, cioè stanno entrambi nella stessa battuta Ascolta, te lo faccio di nuovo 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ok, adesso con la mano destra raddoppiamo Cioè ogni volta che contiamo, invece di fare solo così 1, 2, facciamo 1, 2 Ok, cioè facciamo due colpi Per ogni numero che contiamo Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Ok? Ogni passaggio che ti sto facendo vedere, ogni ritmica Cerca di esercitarti almeno 5-10 minuti Quando l'hai metabolizzata bene, passi a quella successiva Quindi fai prima quella 1, in questo modo 1, 2, 3, 4, eccetera E poi passi a quella 2 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 Ok, adesso andiamo a fare la ritmica originale Senza il tic, il clic, il colpo Insomma, come ognuno lo chiama un po' a modo suo Perché la ritmica originale è questa Quindi facciamo così Quindi facciamo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Quindi sull'1 andiamo così soltanto dall'altro verso in basso una volta Sul 2 facciamo il doppio colpo come ti ho spiegato prima Anche sul 3 E sul 4 di nuovo singolo Quindi guarda, faccio lentamente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ricordati sul B e sul C fa così 1, 2, 3, 4 Adesso lo faccio un po' più veloce 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Questa è la ritmica originale Quando avrai la padronanza totale su questa ritmica qui Puoi passare a quella più avanzata Cioè con il clic e il tic E quindi fare 1, 2, 3, 4 Cosa ho fatto? Ti ricordo di prima era 1, 2, 3, 4 Adesso dobbiamo sostituire il colpo Sulla prima suddivisione del secondo Che era doppia Cioè invece di fare giù, su Dobbiamo fare colpo, su Quindi Guarda 1, 2, 3, 4 Quindi al quarto movimento sostituiamo di nuovo il colpo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ripeto 1, colpo 3, e colpo 1, 2, 3, e 4 Te lo faccio di nuovo lentamente e velocità originale 1, 2, 3, e colpo Original 1, 2, 3, e colpo 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 Ok? Spero di esserti stato d'aiuto Fammi sapere E ti ripeto Pubblica un piccolo video Questo è un gruppo didattico Quindi non ti farei alcun problema Qui nessuno giudica Ma anzi Tutti dobbiamo crescere Dal sottoscritto Fino a tutti quelli più bravi ancora Ok? Ciao Ciao